Condigliac, il sensismo e l'esempio della statua. Etienne Bonneau, abate di Condigliac, vissuto tra il 1714 e il 1780, è noto per aver sviluppato in maniera innovativa la dottrina del sensismo gnoseologico. Alcune sue opere che maturano sotto l'influenza della dottrina di John Locke sono Il saggio sull'origine delle conoscenze umane del 1746, Il trattato sui sistemi del 1749, Il trattato sulle sensazioni del 1754, Il trattato sugli animali del 1755, un completo corsi di studio tra il 1767 e il 1773 in 13 volumi scritti per il giovane duca Ferdinando di Borbone, nipote di Luigi XV. Ebbene, Condigliac, dicevo, sviluppa una dottrina che prende le mosse dal modo empiristico di sviluppare la dottrina della conoscenza teorizzato da John Locke. Condigliac accetta sostanzialmente la dottrina di Locke sulle idee e tuttavia vi apporta una correzione fondamentale. Esiste, è vero, la distinzione tra le idee di sensazione, che provengono direttamente dal mondo esterno attraverso i sensi, e le idee di riflessione, che sono prodotte dal riflettere della mente sulle proprie operazioni. E però, a differenza di Locke, Condigliac nega che la riflessione sia una fonte di conoscenza separata dalla sensazione. Il riconoscimento da parte di Locke di una conoscenza disgiunta dalla sensazione risulta per Condigliac come una sorta di residuo immotivato di innatismo cartesiano. La conseguenza della riduzione operata da Condigliac, che tende, ripeto, a far sì che la riflessione sia risolta in tutto nella sensazione, è un sensismo gnoseologico assoluto. Non soltanto le idee riflesse, ma tutte le operazioni spirituali, dalla memoria al giudizio, dalle forme più astratte del pensiero, come a quelle più complesse della vita emotiva, non sono nient'altro che sensazioni trasformate. Tutto è sensazione, e anche gli stadi più elevati della riflessione in realtà sono forme della sensazione. Il dispositivo di questa trasformazione si spiega con il sentimento di piacere e di dolore che sempre accompagna le sensazioni, e dunque con il fatto che esse sensazioni appaiono ora favorevoli, ora contraria alla soddisfazione dei bisogni fisiologici dell'uomo. L'associazione delle sensazioni con il piacere o il dolore, o con altre sensazioni che portano al piacere o al dolore, è il motivo di comparazioni, di valutazioni, di reazioni, e in ultimo di abitudini, nelle quali si risolve l'intera nostra attività intellettuale e passionale. Per fare chiarezza sull'assoluta continuità del processo di sviluppo che porta dalla sensazione alle più complesse operazioni dello spirito, Condiliac fa ricorso al celeberrimo esempio della statua. Condiliac immagina l'esistenza di una statua marmorea, che per quanto chiusa ad ogni penetrazione sensibile dall'esterno, visto che è di marmo, sia interiormente organizzata nel nostro stesso modo. Ecco che dunque la statua sarà fornita di uno spirito, di una res cogitans nettamente contrapposta alla res extensa, virtualmente capace di compiere le medesime operazioni dello spirito umano, anche se inizialmente del tutto privo di idee, una vera e propria tabula rasa. Condiliac immagina poi di aprire ad uno ad uno i cinque sensi, secondo l'ordine che egli ritiene più idoneo per spiegare l'originarsi delle idee e delle operazioni sulle idee. Condiliac prende le mosse dall'olfatto, che essendo il più povero di determinazioni tra tutti i sensi, è anche quello che meno concorre alla definizione dei contenuti della conoscenza. In seguito prende in esame gli altri sensi, immaginando che uno ad uno si schiudano per la statua. In tal guisa la statua marmorea, che originariamente non pensava e non desiderava alcunché, sviluppa un poco alla volta tutte le operazioni psichiche che sono proprie dell'uomo. Quindi la condizione affinché la statua possa pensare e volere è che in essa penetrino le sensazioni, che risvegliano in essa le operazioni spirituali. Fuor di metafora, Condiliac ci sta segnalando che l'uomo stesso non sarebbe in grado di svolgere nessuna funzione psichica se il suo spirito non fosse un po' alla volta informato ed educato dalle sensazioni esterne. Nella dottrina gnoseologica sviluppata da Condiliac il senso privilegiato è il tatto. Finché le informazioni sensibili che provengono alla statua marmorea sono limitate a questi sensi che non sono il tatto, manca un contatto diretto tra il soggetto che conosce e l'oggetto che è conosciuto. Le idee che giungono in tal guisa allo spirito della statua hanno un contenuto rappresentativo, vale a dire consentono di descrivere l'immagine delle cose, ma non dimostrano ancora la realtà del mondo esterno. È solo il tatto invece che permette di percepire l'estensione e il movimento e in tal guisa consente alla statua di distinguere se stessa da ciò che è altro da sé. Attraverso il tatto infatti la statua percepisce anzitutto le parti di se stesse e la loro interazione vicendevole. In tal maniera consegue quel sentimento fondamentale che è la coscienza del proprio io, alla quale, come noto, Cartesio arrivava per il tramite del dubbio. In seguito, toccando gli altri oggetti e avvertendo la loro solidità e resistenza, la statua marmorea potrà addivenire all'idea dell'esteriorità di questi oggetti rispetto a sé stessa. Ecco perché il sensismo gnoseologico di Condigliac culmina con la teorizzazione del tatto come il più importante di tutti i sensi.